Agna! 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 Ma sei scemo! A che ora è la recita oggi? Cinque e mezza. Ok, cosa fanno? Gesù contro Gesù. Bianca fa Gesù. Oggi non vado a scuola, manifestazione. E per cosa? Veniamo tutti a Stoccolma con te. Facciamo il Natale tutti insieme. Sei... No, no, perché? 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 Attenso! Cosa è successo a Bobbino? Lo salvo io. Di più! Di più! Di più! Papà, dimmi. Sono incinta. Vorrei parlarne con Babbo Natale. E vuol parlare con Babbo Natale! Con Babbo... Oh, 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 oh... Boom! Headshot! Eccoci qui. Wow. Oh, 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 oh... Grazie per la visione!